Il rimpasto di giunta a Teramo slitta ancora. Inizialmente era atteso per il mese di giugno, poi entro il mese di luglio, parola del primo cittadino Maurizio Brucchi, infine è stato rimandato ad agosto. Oggi, 3 settembre, la domanda nasce spontanea. Si farà davvero? Quella che infatti avrebbe dovuto essere la stagione dei bilanci, con gli annunci fatti sui possibili cambiamenti in corsa della squadra di governo, fondamentale per cambiare marcia, è stata distolta da altri pensieri. Tra modifiche sul porta-porta, alberi secolari tagliati, le polemiche sulla compartecipazione per i servizi di assistenza ai disabili, il bando di gara sulla Teramo Ambiente e soprattutto la questione Teramo Calcio, sono stati altri gli argomenti che hanno trovato spazio nell'agenda politica locale, portando la questione rimpasto di giunta, indispensabile un mese fa, in secondo piano, anzi sarebbe proprio sparita dall'agenda. Sarà per la presenza dei cosiddetti intoccabili, saldamente al loro posto nonostante la valanga di critiche per ogni passo compiuto, dell'equilibrio da mantenere tra i diversi gruppi consigliari, oppure la questione del Teramo Calcio è più importante per la città di Teramo, tanto da far smuovere il sindaco mentre si sta concedendo qualche giorno di relax con la famiglia in Sardegna? Probabilmente Maurizio Brucchi spera così di far scendere l'attenzione da questo argomento e magari, penserà infine, ad un semplice rimpasto di deleghe. Intanto, con la delibera di giunta approvata la scorsa settimana, la situazione all'interno dell'amministrazione teramana si è cristallizzata con la riduzione del 20% degli emolumenti di sindaco, assessori e presidente del Consiglio.